Per quanto riguarda lo skate abbiamo fatto di tutto, dai delinquenti proprio in primis andando nei cantieri a rubare le tavole per costruirci le rampe perché tu adesso qua vedi tutto cemento ma all'epoca qua non c'era niente, qui c'era semplicemente una panchina e una jump che avevamo procurato noi e veramente degli endrail, dei tubi messi lì giusto per grindare comunque passare la giornata in questa maniera Grazie a tutti!